Un progetto che ci consente di stare vicino ad una famiglia che si trova in un periodo di difficoltà. Abbiamo la possibilità di aiuto e condivisione di parecchie realtà giornaliere di una famiglia, soprattutto di una famiglia con problemi, visto che io sono un ragazzo padre single e di un aiuto in più che può servire concretamente a tante altre famiglie. Sicuramente ci hanno restituito tantissimo. Ho avuto l'opportunità di guardarmi in modo profondo e adulto. Faccio un lavoro che ha molte problematiche dietro. Con l'aiuto di Emiliano e Nadia è stato tutto molto più facile. I nostri bambini si sono abituati alla condivisione delle cose, quindi mangiare insieme, giocare insieme, non c'è il mio o il tuo. Mi ha dato l'opportunità veramente di riuscire ad ascoltare. Nel momento in cui ho aperto la mia famiglia un'altra famiglia è cresciuta esponenzialmente proprio il senso di famiglia. Siamo dei nonni affiancanti, nel senso che ci troviamo dei figli all'università e quindi ci siamo trovati un po' soli e l'iniziativa di affiancare una famiglia è stata presa al volo. Mi ha stupita e mi ha commossa molto. È una bella cosa, indimenticabile, impagabile. A volte il tuo tempo può essere il denaro, la forza che dai all'altra famiglia. Personalmente lo consiglierei a chi ha problemi come quelli che ho avuto io. Questa è una cosa che secondo me è un'amicizia che si porterà avanti tutta la vita. Ci siamo messi tutti a ridere. ed è diventata la nostra parola quando qualcuno dice una castellana. No 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 Grazie a tutti.